Musica Ben trovati, un buon inizio di settimana a tutti, velocemente i titoli d'apertura dei quotidiani di oggi, una rapida carrellata, avremo un lungo approfondimento. Oggi partiamo dal Corriere della Sera per quello che è sicuramente l'argomento principale del giorno, cioè la politica con la discesa in campo ufficiale, ufficializzata ieri da Giorgio Meloni nella convention di Pescara, la premier capolista all'europea in tutte le circoscrizioni, Meloni si candida, votate Giorgia. L'invito a scrivere sulla scheda soltanto il nome, Salvini intanto brindavannacci, domani saranno insieme sul palco, questo è l'altro dato politico, il derby, lo scontro all'interno del centrodestra con Tajani. Tante altre notizie, quest'oggi il Papa che per la prima volta visita Venezia alla Bala Bienale e visita il carcere della Giudecca e ai giovani dice alzatevi, non restate sul divano. Ancora dalla prima pagina del Corriere, tanti altri approfondimenti e ovviamente lo sport perché ieri Milano è stata scossa festosamente da quei 300 mila che hanno festeggiato lo scudetto dell'Inter. Da Repubblica, duello per l'Europa, il titolo d'apertura, Meloni a Pescara presenta la sfida come un referendum su se stessa, sarà un capolista ovunque, votatemi scrivendo Giorgia e in calza l'assente Salvini, ci preferisce il ponte. La russa intanto avvannacci, dice sciocchezze, deboli la lista dei 5 stelle senza Big. Elish Line, premier fuori dalla realtà, replica, noi saremo in ospedali e fabbriche, spazio per il Papa che parla alle detenute di Venezia anche sul Repubblica con una bella foto del Papa in Laguna. Venezia può sparire, curiamola, una delle tante allarmi lanciati dal Papa, non solo quello sulle carceri. Dalla stampa, due argomenti sulla scheda, scrivete Giorgia, è il principale con Meloni che si candida alle europee e quella che un tempo era chiamata l'apertura del quotidiano con un'intervista al Ministro dell'Interno che dice per quanto riguarda le proteste nelle università non ci saranno leggi speciali. Il corteo al G7 di Torino, oggi però Palestina bruciano le foto dei leader, altro spunto interessante, ne parleremo nel nostro approfondimento, il procuratore di Napoli Gratteri che dice siamo al disastro carceri. I boss si telefonano da un carcere all'altro per gestire i traffici, almeno 100 telefonini attivi. Spazio quest'oggi, lo menzioniamo una volta sola, non ci sembra giusto rimestare in questa storia di Franco Di Mare che ieri ha detto a un mesotelioma, forse per l'amianto che ho respirato nelle mie missioni di guerra, tradito dalla RAI, sono rimasto completamente solo. Dal messaggero la prima pagina con Meloni che sfida la politica verso l'Europa, scrivete Giorgia, ma anche un'altra notizia che riguarda una misura che arriva nel Consiglio dei Ministri, cioè gli sgravi contributivi totali per due anni per chi assume giovani, donne e al sud. Un bonus per chi assume, voucher e incentivi per chi si mette in proprio, fondi europei, poi riforma e controlli sulle regioni. Altro approfondimento lo vedremo, sgomberi più facili se l'abusivo pesa sui servizi pubblici, lo dice la Cassazione, è legittimo liberare un edificio se si rischia un affollamento eccessivo nella zona. La prima pagina del giornale, Meloni alza la posta, cambieremo anche l'Europa, la Carmessa Pescara, la svolta sulla scheda, scrivete Giorgia e l'evento nell'evento, rappresentato ieri da quel tributo alla memoria del cosiddetto nemico, Standing Ovation di Fratelli d'Italia per Berlinguer. La prima pagina è solo 24 ore, dichiarazioni bonus a 80 miliardi dai lavori in casa alle spese mediche, aumentano le detrazioni e il trend proseguirà anche con i modelli del 2024, in crescita lo sgravio sui mutui abitativi. Poi, questo è il focus, l'apertura dedicata alla denatalità che taglia il futuro dell'Italia. Popolazione più vecchia, meno nascite, il Montevita cala di 184 milioni di anni. Ancora qualche lettura per la giornata di ieri di Pescara dal Fatto Quotidiano. Scrivete solo Giorgia per farvi fregare meglio. Non andrà in Unione Europea, così come Lischlein, Tajani e adesso pure Calenda. Una candidatura truffa per il Fatto Quotidiano. Per Libero, invece, Giorgia chiede la fiducia con una sfida alla sinistra. Meloni annuncia la candidatura all'europea, scrivete solo il mio nome sulla scheda. Sono fiera che la gente mi chiami così, ma andiamo i progressisti all'opposizione anche a Strasburgo. La lettura apposta di domani, Meloni vuole il referendum su di lei, sono del popolo. Votate Giorgia, la strategia iperpopulista della Premier, con il caso poi Gian Bruno, auto di Gian Bruno. Leggeremo qualcosa anche su questo. Ci fermiamo solamente un attimo per la pubblicità, brevissima, torniamo subito con tutti gli altri giornali. Eccoci, ben ritrovati. Ripartiamo dai giornali che ancora non abbiamo visto, a meno le aperture con la verità. Sempre sulla candidatura di Giorgia Meloni, Giorgia si candida in Europa, cambiamo case e auto green. Ognuno punta su un aspetto del discorso della Meloni che leggeremo in parte con le critiche e gli applausi che troviamo oggi sui giornali, a pescare il capo di Fratelli d'Italia lancia il programma per Bruxelles e passare dalla fase di contenimento delle direttive imposte dai socialisti al ruolo di traino per l'industria. Fermeremo tutte le norme che ci impoveriscono. Dalla prima della verità a quella del tempo si può fare. Oggi c'erano tutta pagina per Meloni che scende in campo. Un'Unione Europea senza sinistra e scrivete solo Giorgia Meloni mattatrice, chiude la kermesse di Fratelli d'Italia, io sono un soldato, dice mi candido, mi aiuterete, non sono la leader del PD. La frecciata al partito della rivale è l'Ischlein. Meloni in campo, la doppia sfida, la premier da Pescara, scrivete solo Giorgia sulla scheda, batteremo la sinistra anche in Europa. Ha perso il contatto con la realtà, replica la leader del PD. La Lega che blinda Vannacci e Salvini che non va alla kermesse di Fratelli d'Italia, con tanto di frecciata del premier. Per questo dal mattino Meloni la sfida in Europa, il premier sul palco di Pescara, capolista in tutte le circoscrizioni. Scrivete Giorgia, caso Vannacci, poi Salvini rilancia. Domani insieme a Roma anche Calenda si candida. Lo sport in primo piano sul quotidiano napoletano, perché giocava il Napoli una partita cruciale contro la Roma. Lo spreco il Napoli recupera, va avanti. Adesso vedremo anche i quotidiani sportivi, come leggono la partita degli azzurri di ieri. C'è tanto spazio sui giornali, sulle prime pagine, l'avete visto, e diventa l'argomento principale per il Gazzettino, per il Papa e il suo abbraccio a Venezia. Città così splendida ma fragile, ha detto il Pontefice. Siamo preoccupati per le sue problematiche, da sempre luogo di incontro e di scambio culturale, chiamata ad essere accessibili, accessibile a tutti. Il Papa ha incontrato molte persone e ha toccato diversi temi nel suo viaggio di ieri. Da legge europee Meloni si candida, questa è la versione milanese del quotidiano free, che si occupa anche di esteri e soprattutto, essendo la versione milanese, della festa per quei 200 mila nerazzurri milanesi che ieri hanno celebrato lo scudetto con il 2-0 al Torino. Foto che ritroviamo sulla Gazzetta dello Sport in primissimo piano. Ecco la rosa oggi, oltre 300 mila per le due stelle. Ondata Inter, ce l'hanno aglubate il Toro, poi la sfilata tra i tifosi in delirio fino al Duomo. Un'inchiesta però anche sullo striscione esposto da Dunferis, dove si mostrava un Teo Hernandez al guinzaglio. La nota negativa in una giornata sicuramente da incorniciare. È lì la festa per il Corriere dello Sport, l'Inter in trionfo e seconda stella. Il Corriere si occupa poi anche di Roma. I Fantastici 5, Tiago e De Rossi frenano, Max resta terzo, Gasp sale, Tudor Spera. Ammucchiata Champions per gli ultimi tre posti sicuri e la Corsa Champions sicuramente è quella che infiamma di più in questo momento. A livello politico la cosa che infiamma, e qui entriamo nel nostro approfondimento, è sicuramente il discorso di Giorgia Meloni di ieri, la sua discesa in campo con molti temi toccati. Leggeremo una serie di analisi del discorso della Premier, partendo da quello di Flavia Perina sulla stampa quest'oggi. La Premier ha compiuto un salto di qualità, dice la giornalista, nelle ambizioni personali per l'europea. Adesso vuole affermare se stessa e rendere tutto il resto un contorno, compresi gli alleati. Qual è, dice la Perina, questo salto di qualità? È un salto di qualità nelle ambizioni personali della Premier, che esce dal ruolo di capo del partito di maggioranza relativa per presentarsi all'elettorato di centrodestra come titolare esclusiva di qualcosa di nuovo. Un brand, vota Giorgia, più che una formula politica o la leadership di una coalizione vincente. La nomination nei simboli di Silvio Berlusconi e Matteo Servini impallidisce davanti a questa nuova progressione, dove il cognome non serve più, è una sovrastruttura, perché Giorgia è una sola e basta la parola. Anche questo piacerà alla destra e più anziani ci troveranno l'eco della confidenzialità del passato quando i leader storici non erano protetti da scorte e auto blu. Questa è una prima analisi di Flavia Perina. L'altra la prendiamo da libero. Postura, natura, faccio, tutte le parole analizzate nel discorso di Giorgia Meloni, che punta sul nome di battesimo, parla con orgoglio di cultura, e sprona i suoi e dice non c'è niente di impossibile. Impossibile è una delle parole analizzate, ci interessa però approfondire quello che scrive Luca Beatrice in merito alla parola faccio, per otto volte lo pronuncia Giorgia Meloni, decisa e non ha filiazione diretta con l'uomo del fare di berlusconiana memoria. Nella nostra lingua ci sono molti sinonimi infatti per approfondire questo atteggiamento, però lei ha voluto mantenere la forma semplice e diretta al presente che può riguardare un importante provvedimento oppure per dare un messaggio chiaro senza equivoci. Faccio quello che faccio solo per gli italiani. Meloni qui parla da Premier, non da leader politico impegnato in campagna elettorale. Sa di poter contare su fatti inequivocabili, anche i critici più accesi dovranno ammettere che sì, così. Ne ha fatte molte, tra poco vedremo anche quali sono le misure in arrivo a proposito nel Consiglio dei Ministri. Non mancano le critiche, ovviamente cominciando dal Fatto Quotidiano che parla di ultima trovata della Premier. Una Meloni che ci rifila, secondo Giacomo Savini, una doppia truffa, solo il nome Giorgia sulle schede europee. La leader di Fratelli d'Italia si candida per finta in Europa, qua sono una del popolo, con Salvini deriso e assente, fa il ponte sull'Unione Europea, mai con i socialisti, frena su Draghi, attacca Conta, attacca Report. Oggi l'intervista a Massimo Cacciari chiarisce quella che era la linea del Fatto Quotidiano sulla doppia truffa. Una mossa in stile Berlusconi per bidonare gli elettori. La candidatura è solo finta, infatti la fa solo perché non ha alcun nome spendibile. Il ricordo è quello di Berlusconi, anche lui diceva sempre vota Silvio. È una mossa in pieno stile berlusconiano da questo punto di vista, sottolinea Massimo Cacciari. Non a caso c'era un solo precedente di un Premier che si è candidato alle elezioni europee ed è proprio l'ex leader di Forza Italia. Come si spiega questa decisione? Il discorso viene da lontano ed è strutturale. In assenza totale di partiti che hanno ceti, dirigenti, attrezzati, questa può sembrare la soluzione. Nella Seconda Repubblica tutti hanno contribuito appassionatamente a distruggere i partiti con le loro strutture interne. Figure come Togliatti, Berlinguerde, Gasperi, Almirante non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Non si sarebbero mai immaginati di mettere il proprio nome nel simbolo. Ora si crede solo che per prendere voti occorra la telegenia, il leader forte, il capo. Siamo ancora in piena epoca berlusconiana. L'analisi di Cacciari su questo. Dacci oggi l'imbarazzo quotidiano. Attacca invece Stefano Giannaccone dalle colonne del domani i ministri indifendibili del governo. La forza di Meloni è il senso di questo approfondimento e la debolezza della squadra di cui Giorgia Meloni proprio ieri ha rivendicato invece la forza. L'evanescenza di Pichetto Fratin, gli strafalcioni di Balditara, gli scivoloni di Nordio. Palazzo Chigi è pieno di grane. La Premier è irritata e valuta un rimpasto dopo l'Europea per lo scarso rendimento di alcuni membri dell'esecutivo. All'appello dei discoli rispondono quasi tutti presenti in un consiglio dei ministri che sembra sempre più una classe di alunni indisciplinati che fanno infuriare la prima della classe che risponde al nome di Giorgia Meloni. Così la vede Giannaccone. Identità e sovranismo. La sfida è tutta a destra e no alle larghe intese. Qui siamo su un messaggero e cominciamo ad analizzare che cosa potrebbe succedere dopo il voto europeo. La linea per la campagna stop al Green Deal e nessun accordo con i socialisti. L'ipotesi, quella di Ursula von der Leyen o Draghi, niente spartizioni senza considerare i risultati delle urne. Non si è fatta tirare in questa polemica a Giorgia Meloni dicendo chiaramente che non parlerà del Presidente della Commissione sin quando non ci sarà un esito chiaro del voto. Ma questo derby è solo a destra? Ce n'è uno all'interno della stessa maggioranza? Cioè quello tra Forza Italia e Salvini. Fabio Rubini sul Libero parla degli alleati di Giorgia Meloni, Salvini e Tajani. Governo forte ma il derby elettorale è già partito. Il leader del Carroccio, orgoglioso di una Lega che all'8% ha fatto più di quando era al 30% è quello degli azzurri punzecchia tutti. Il suo voto utile, il solo voto utile ha detto Tajani, quello a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, scusate. Noi gli unici nel Partito Popolare Europeo con Tajani che parla anche di identità quando dice guai a rinunciare alla nostra identità anche se vogliamo accogliere. Più forte è la nostra identità, più siamo pronti ad accogliere chi viene da fuori. Quando togli il crocifisso dal muro vuol dire che sei debole e hai paura. Solo quando sei quello che sei sei pronto ad aprire le porte di casa tua. Fin qui il discorso all'evento di Fratelli d'Italia. Ma quando il leader di Forza Italia si sposta alla presentazione dei candidati azzurri in Abruzzo il tono cambia e un paio di frecciatine partono. Alla Lega soprattutto. Ho deciso di candidarmi perché ritengo giusto che il segretario del partito in questo momento si impegni al massimo anche in campagna elettorale senza nulla togliere alla mia azione da ministro degli esteri. Un messaggio chiaro a Salvini, l'unico leader del centrodestra che non scenderà in campo non scenderà perché e lo vedremo tra un attimo ha scelto il generale Roberto Vannacci. Prima di concentrarci sulla problematica interna alla Lega proprio per la scelta di Vannacci uno sguardo anche a questo primo sondaggio una proiezione in vista dell'europea un asse conservatore difficile è la valutazione del messaggero con maggioranze variabili in Unione Europea e la battaglia su ogni dossier. Crescono i partiti di destra la possibilità di convergere su singoli provvedimenti la situazione, la foto è questa riportando anche i risultati del 2019 con il Partito Popolare Europeo che in proiezione viene visto ancora come il partito principale la forza principale all'interno del Parlamento Europeo seguito a ruota dai socialisti ognuno può leggere ovviamente quali sono i risultati e quanti parlamentari porterebbero poi al singolo partito con Renew Europe subito dietro vedete i partiti della destra identità e democrazia subito dietro insieme ai conservatori per intenderci identità e democrazia il partito di Matteo Salvini in Europa i conservatori il partito di Giorgio Meloni in Europa via via tutti gli altri partiti e poi come sono divisi gli attuali parlamentari al momento in Europa dicevamo la Lega e il distinguo all'interno del centro-destra una Lega che è stata spaccata dalla decisione del suo leader Matteo Salvini di portare come capolista il generale Vannacci e allora si parla di strappo a destra lo fa Francesco Spini sulla stampa non solo Lega da Fratelli d'Italia a Forza Italia è una corsa a prendere le distanze dal candidato di Salvini la russa ieri ha detto chiaramente il generale dice solo sciocchezze quando parla di disabile grave contesti il ministro della difesa e in merito al chiamiamola al dissenso espresso nei confronti del suo ministro Cioè Crosetto dice cose mostruose e disumane la sua è la candidatura di una persona impresentabile la replica del generale Giorgetti mi critica di atribbe interne non mi interessano ha detto contano solo i voti contano solo i cittadini la risposta tra l'altro data anche ieri a chi ha i mal di pancia se li farà passare da qui a criminalizzarlo leggiamo un passaggio dell'articolo di Francesco Spini la russa da qui a criminalizzarlo per la russa ne passa bisognerebbe dirgli caro Vannacci alcune cose che dici non mi piacciono la cosa più terribile non va però ricercata nelle frasi sui gay o nel vasto campionario di altri argomenti una cosa che proprio non mi piace di Vannacci è come fa un generale un militare a contestare il proprio ministro della difesa questa è l'accusa principale che arriva insomma ieri ne sono arrivate tante dalla Echermess di Pescara al generale Vannacci senza se e senza ma da pagina 5 di Repubblica il sondaggio parla proprio di questo la fiducia a tempo per Salvini rischia se c'è il flop nelle urne perché quello che conta a questo punto è capire come finirà a livello di voti il derby interno con Forza Italia di Tajani la possibilità scrive Ilvo Diamanti di un risultato negativo all'europeo è concreta da qui la candidatura del generale ma il 60% dei sostenitori crede ancora che il segretario sia il leader migliore per il carroccio c'è questo sondaggio pubblicato subito sotto lo vedete che voto darebbe in una scala da 1 a 10 ai leader del passato del presente e forse anche del futuro tra quelli che si dicono propensi a votare Lega come vedete Salvini è ancora in testa con un 86% tra i propensi a votare Lega seguito a ruota però e non molto distante da Luca Zaglia quello che per molti potrebbe insediare la segreteria del partito in caso di flop elettorale alle europee c'è un dato interessante che è quello di Vannacci proprio che è già a un 47% nonostante non sia di fatto un leghista nonostante i tanti esponenti leghisti che hanno voluto precisare dopo le parole sui disabili per esempio ieri che Vannacci non è uno di loro andiamo sul Repubblica il retroscena raccontato da Lorenzo De Cicco invece per come la sinistra ha vissuto la Kermess di Pescara lei ignora la realtà è quello che ha risposto la segretaria Elischlein ospedali e fabbriche nel tour di Schlein per sfidare la destra anche gli elettori PD potranno scrivere solo Elis sulla scheda la leader prepara i manifesti con il suo volto ma punterà tutto sulla difesa di sanità e salari chi sta curando la campagna elettorale della segretaria PD programma visite a tappeto proprio negli ospedali scusate torniamo indietro ho chiuso per sbaglio la pagina a differenza no abbiamo sbagliato la pagina chiedo scusa eccola qui quella di Elischlein chi sta curando dicevamo la campagna elettorale della segretaria del PD programma allora visite a tappeto negli ospedali della serie un comizio un pronto soccorso un format attestato dalla Schlein durante le regionali in Abruzzo quando i dirigenti nominati dal governo Meloniano dal governatore Meloniano Marco Marsiglio la misero addirittura alla porta all'ospedale di Popoli perché infastiditi dal codazzo di telecamere e tacuini oltre al tour nella sanità disastrata dello stivale ci saranno però anche le fabbriche fabbriche in crisi per far passare il messaggio che suo è il partito del lavoro come qualche fedelissimo di Schlein vedi il sindaco di Bologna Matteo Lepore suggeriva di battezzare il PD post primarie e ci spostiamo invece su quelle che sono le misure del governo dicevamo una Giorgia Meloni che ieri ha pronunciato molte volte però la faccio Andrea Ducci oggi ci racconta lo fanno un po' tutti i giornali dell'apertura del messaggero quale sarà il super bonus per le nuove assunzioni arrivano sgravi fiscali infatti fino al 130% il decreto primo maggio che sarà domani per l'appunto in consiglio dei ministri porterà benefici scrive il Corriere per 380.000 imprese le misure per gli sgravi alle imprese che assumono giovani e donne soprattutto al sud sono destinate a confluire nel decreto coesione che riscrive le regole per spendere 43 miliardi dei fondi europei atteso domani in consiglio dei ministri nello specifico l'intervento in materia di deduzioni sui contratti di lavoro stabilisce per i destinatari dello sgravio l'obbligo di avere svolto l'attività nell'anno precedente il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 un tecnicismo però per far capire chi saranno i reali destinatari di questo nuovo super bonus forse è anche sbagliato chiamarlo così in campagna elettorale però un'attenzione particolare va anche a quello che fanno i cosiddetti guastatori dall'esterno non solo quelli russi per una controinformazione che nell'epoca dei social è molto viva molto presente la rete globale della disinformazione Alberto D'Argeni oggi ce la racconta parlando di esercito dei troll che combatte in Europa a ruola Cina e Iran a dare la benedizione a questa guerriglia è stato il delfino di Putin Dimitri Medvedev da allora la galassia dei canali alternativi si è mobilitata per riorientare l'opinione pubblica le tecniche della disinformazione si evolvono passando dalle classiche fake news che sono facili da smascherare a più sofisticate operazioni influenza cioè la loro forza è di non essere sempre illegali di non usare contenuti palesemente falsi di avere rilevante capacità di manipolazione informativa i messaggi di fondo sono i siti alternativi raccontano la verità censurata dai media mainstream l'Europa crollerà l'Europa perderà solo i partiti contrari ad aiutare Kiev per esempio porteranno la pace ma a differenza dell'europea 2019 la Russia non agisce da sola il 7 ottobre è entrato sulla scena globale della disinformazione anche l'Iran teniamo a mente questa informazione perché la recupereremo tra poco quando parleremo anche di esteri un argomento che ci porta a questo è l'intervista prendiamo spunto da questo del ministro Piantedosi sulla stampa ne abbiamo parlato leggendo i titoli d'apertura no a leggi speciali per università e cortei arriva a modello Albania che sarà replicato ma è importante quello che dice il ministro sulle regole dell'ordine pubblico che non cambieranno perché negli etenei dice il ministro serve un clima pacifico questo è il dato più interessante che riguarda il clima che si sta verificando non solo in Italia ma anche in giro per il mondo fino negli Stati Uniti dove la rivolta nei campus ormai è arrivata a un livello allarmante con oltre 700 arresti o fermi per le proteste le occupazioni o le manifestazioni nelle università dei pro palestina Biden e Netanyahu destini incrociati siamo sul tempo la corte dell'AIA potrebbe emettere un mandato di arresto per Bibi solo gli Stati Uniti possono impedirlo ma negli Stati Uniti cresce la protesta destini incrociati perché l'uno chiede la mano dell'altro anche per evitare l'incriminazione da parte della corte penale internazionale l'altro per l'altro intendiamo Abou Mazen il leader dell'autorità nazionale palestinese per evitare invece l'invasione di Rafa e Israele al biglio decisivo come racconta Chiara Clausi entrare a Rafa o trattare i vertici dell'esercito hanno già pianificato l'invasione pesano però le pressioni americane che non vogliono quell'invasione e oggi si riapre il tavolo in Egitto il tavolo con Hamas il tavolo in cui tra l'altro è emerso chiaramente che gli ostaggi in vita sono ormai solamente 33 e su questo si sta trattando due ultimatum a Netanyahu e il premier adesso teme il mandato d'arresto dell'AIA scrive anche Corriere con minacce da Gans e da destra Hamas primo ok intanto la proposta di tregua dicevamo però la protesta che arriva a lambire anche il presidente degli Stati Uniti d'America contestato alla cena all'ingresso della famosa cena dei corrispondenti tra ira e risate lui se la prende con Trump sempre tra lo scherzo e l'essere un po' più serio il mio avversario è un bambino di sei anni ha detto ma intanto fuori dalla sala al suo arrivo c'era una manifestazione di Progazza che lo attendeva e lo ha contestato al grido di vergogna di senso o violenza la vera patria politica dietro la battaglia la vera partita politica dietro la battaglia della Columbia ce la racconta oggi Alexander Steele sulla Repubblica i repubblicani vogliono dipingere le università americane come focolai di estremismo la dirigente si è piegata per non perdere il posto e dalle proteste americane all'inferno di Chasidyar siamo sull'altro fronte di guerra quella ucraina nella città sediata dai russi nessun edificio è rimasto integro i soldati ucraini resistono negli scantinati hanno riempito le scale di acqua scorte legne cibo per cani d'andaggi ma quella che è stata dipinta come una delle battaglie chiave come tante nel passato che abbiamo raccontato quella di Chasidyar rischia di essere persa per l'Ucraina una menzione per il Papa perché abbiamo visto tanti titoli dei quotidiani su questo una scossa che è arrivata agli artisti ai giovani alle detenute sul tema ambiente ma soprattutto ai giovani ai quali il Papa ieri ha detto alzatevi dal divano alzatevi spegnete il telefonino uscite fuori per vivere la vita vera parole sincere quelle del Papa che hanno molto colpito come hanno colpito l'abbiamo fatto leggendovi il titolo d'apertura nell'intervista sulla stampa le parole di Nicola Gratteri che dice i boss si chiamano da una prigione all'altra questo è il fallimento del nostro sistema con il procuratore di Napoli che dà un dato preoccupante in questo momento dice nei penitenziari ci saranno 100 telefonini attivi e così i capi mafia mantengono rapporti e danno ordini all'interno lo spaccio ormai è diventato un business dalle parole allarmanti di Gratteri questa non è la pagina giusta scusate ha un altro argomento interessante se è un peso per il quartiere l'abusivo va sgomberato lo dice la Cassazione era uno degli argomenti principali del giornale l'immobile si può liberare se gli occupanti gravano sui servizi pubblici il caso nel napoletano il caso da cui nasce appunto la decisione della Cassazione 38 famiglie che di fatto aumentavano il carico urbanistico da qui il distingo della Cassazione altra notizia ci avviamo verso la chiusura con le notizie del telegiornale che sono pronte con Fabio Angelicchio risse e spari in strada Martina ferita per errore è successo a Sez pensavo di morire prima un litigio tra bande e rivali poi il regolamento di conti davanti al bar la ragazza è stata colpita mentre era al telefono con la madre operata nella notte sta bene c'è un approfondimento su qualche giornale oggi che ci racconta come di fatto la Cina si stia comprando un pezzo di Sardegna per il parco eolico scusate il parco solare più grande d'Europa quello che potrebbe essere più grande d'Europa dall'Unione Sarda vi segnalo che c'è un problema sull'isola per la neogovernatrice Todde anche per quanto riguarda l'eolico lotta ai signori del vento il presidente del consiglio comandini dice no allo sfruttamento dell'isola ci sia autodeterminazione reale il ministro Picchetto Fratin ha già bocciato le palle chiudo con un'ultima segnalazione prima delle anticipazioni del Tg perché è inquietante quello che è stato verificato in Puglia scomparse da 50 anni ritornano le zanzare che portano la malaria ma ritornano in Puglia larve e insetti scoperti durante la mappatura di alcune aree rurali gli esperti rassicurano per ora difficile prendere la malattia ma questi sono gli effetti poi del riscaldamento eccessivo di alcune zone del sud Italia Fabio Angelicchio ben trovato buongiorno quali notizie oggi? Ciao Marco grazie buongiorno ha fatto bene evidenziare questo rischio delle zanzare per fortuna mi sembra capire circoscritto in Puglia allora noi di che cosa ci occuperemo nel telegiornale? beh certamente partiamo dalla politica con l'annuncio di Giorgia Meloni che si presenta come capolista nelle circoscrizioni in vista delle elezioni europee critiche naturalmente sono arrivate sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle poi andremo a vedere cosa accade in Medio Oriente oggi è una giornata particolarmente importante perché dovrebbero riprendere i negoziati Alcario tra Hamas e Israele c'è una nuova visita del segretario di Stato americano Blinken è arrivato in Arabia Saudita poi dovrebbe incontrare anche gli altri leader della regione poi vi parleremo della storica visita ieri del Papa a Venezia e poi c'è spazio anche per lo sport per il calcio con la vittoria dell'Inter e quindi con lo scudetto la seconda stella sulla maglia ma c'è questo e molto altro ancora ne parleremo tra poco nel telegiornale adesso subito la linea a Paolo Sottogrona ci dirà che tempo ci aspetta nelle prossime ore a te Paolo buongiorno grazie Fabio buongiorno per oggi ci aspetta un cielo spesso sereno o con qualche velatura sulle coste tirreniche in Liguria ma non stanno dando piogge non significative e poi c'è questa zona di nuvole molto bianca molto compatta con molte piogge che è molto vicina capite dove andiamo a parare perché la previsione per la giornata di oggi vede appunto un cielo poi sostanzialmente o sereno con qualche velatura qualche debole pioggia che si affaccia fra Liguria Piemonte Valle d'Aosta poi in zona alpina sono deboli nevicate però niente di particolarmente intenso domani si vede la strada dove sta dirigendo il tempo perché il maltempo si affaccia da ovest sud ovest anche abbastanza forte la parte che entra come nuvole un po' su tutte le regioni forse con l'esclusione del sud ma vedete le zone interne del centro l'Appennino l'Emilia il nord ovest già con precipitazioni localmente anche di una certa consistenza e questo è il preludio alla giornata di mercoledì primo maggio con nord ovest poi la parte dell'Emilia poi la parte del centro tutto il centro con fenomeni anche intensi sulle altre zone il sud il nord est i fenomeni sono meno intensi ma qui c'è un maltempo anche forte e quindi insomma da tenerne conto chiudiamo velocemente con le minime di questa mattina che sono risalite nel corso del fine settimana così come le massime quindi insomma troppo basse non sono e lo stato dei mari che vede più tranquilli quelli orientali in parte il tirreno però tutti quelli occidentali canali fra le isole maggiori lo ionio sono da mossi a molto mossi in qualche caso anche qualcosa di più per venti in prevalenza orientali se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio da più tardi